we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenutche leis ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi fortbite numero 72 si trova a borgo bislacco dove c'è tutta questa moltitudine di gente ragazzi sotto la macchina rossa del nostro borgo bislacco si trova il fortbite come al solito mi killano però voi ragazzi basta solo che la spaccate e lo prendete io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 17 ciao ciao ciao